Tenium, la mia esperienza, voglio raccontarvi la mia esperienza con Temu che cosa è Temu? Non è altro che un sito di e-commerce, quindi di commercio elettronico che vi dà la possibilità di comprare gli oggetti che volete che desiderate stando comodamente seduti a casa vostra, usando il computer, lo smartphone, l'iphone, internet e poi vi porto la merce a casa. È un po' come Amazon, va bene? Dover mai come sito internet Temu ha dei prezzi veramente vantaggiosi rispetto ad altri competitor o competito a che dissi voglia, i prezzi sembrano essere squisitamente buoni, adeguati, corrispondenti a, chiamiamole, esigenze di persone varie, diffuse e vi posso garantire, insomma, per farvela breve che non è un sito malvagio. Anche in questo caso, come nel caso di Aliexpress, per essere sicuri che un prodotto sia quello effettivamente parlando e il prezzo corrisponda, cliccate due o tre volte sull'immagine per essere sicuri che sia quello che a voi interessa e che il prezzo sia effettivamente parlando a quello. Non vi fidate subito, ciecamente, del prezzo visto su Google, ma entrate nella pagina web e cliccate nell'immagine del prodotto che volete comprare e vale acquistare. Una cosa che a me non è piaciuta il tema, mi opere sinceramente parlando, è i tempi di consegna. Perché? Perché i tempi di consegna, secondo il mio punto di vista, sono troppo, troppo, troppo lunghi. Un prodotto comprato ci mette anche 16-18 giorni per arrivare a casa. Va bene? Questo è ovviamente un male, a mio avviso, cioè secondo il mio punto di vista. Però, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Quindi, promosso Temu, assolutamente sì, è molto buono rispetto all'Amazon, ripeto, ai tempi di consegna più lunghi, però diciamo che, in fin dei conti, è un ottimo sito internet per comprare tutto ciò che desiderate. Beh, iscrivetevi, commentate, una buona giornata a voi, io pensare che dovremmo ho comprato un raso elettrico e l'ho pagato soltanto a una tona di 51, compreso le spese di consegna, cioè non mi sono state fatte pagare, perché in maggio penso che il primo ordine sia gratis nelle spese di consegna, poi gli altri non si sono. Iscrivetevi, commentate, una buona serata a voi.